Per lo studio dei meccanismi molecolari nelle malattie neurodegenerative. Affinché la conoscenza delle malattie rare non sia rare. Lavoriamo per portare i risultati della nostra ricerca al paziente. Puntiamo ad una medicina sempre più personalizzata. E' un futuro possibile anche grazie a te. Dona il tuo 5x1000 al Neuromed. La ricerca ha bisogno di te.